Proviene dal mondo della polizia, 39 anni di servizio, ultimo incarico questore a Bologna. Il nuovo commissario del governo di Trento, Gianfranco Bernabèi, 64 anni, abruzzese di nascita, fiorentino d'adozione. Esperto di ordine pubblico, con la missione dell'ascolto, il commissario Bernabèi ha già incontrato i vertici istituzionali locali ed il Trentino si è già fatto un'idea. Una splendida regione, invetta le classifiche sulla qualità della vita. Per la Movida ha promosso subito l'idea delle street tutori di strada. Per l'emergenza droga, già ben controllata sul fronte della repressione, serve uno scatto collettivo.